Sì, l'ho rotto! Stanno arrivando! Beccati questo! L'attacco! Spada nuova! Oh, guarda dove scappo il cifone! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi siamo qui su Apixel, nelle Bed Wars, con il mio amico Kendall e la sua testa fluttuante. Cosa sta succedendo? Kendall? Kendall! Ah! Che c'è? Cosa sta succedendo? Ah, stavo ascoltando un po' di musica, non ti sentivo! E che cos'è questa testa fluttuante? Eh, ma questo non ti piace? È il mio nuovo gadget! Ma che cos'è? È un palloncino! Oh mio Dio, è inquietante! Mamma mia! Io me ne vado! Beh, torna qua! Oggi facciamo che siamo nelle Bed Wars, quindi facciamo una battaglia dei letti! Chi dorme di più! Ok! Wow, devo dire che è molto bravo Kendall! Sveglio! Kendall! Mamma mia! Dai, andiamo a fare questa Bed Wars! Ok, va bene! Che Bed Wars vuoi fare? Allora, vediamo! Scegli! Ambra, pacicci, cocco! Bella, pacce sul como! È da un po' di tempo che non facciamo le due contro due, quindi io direi una bella due contro due, dai! Questa quindi? Sì! Ok! Uh, siamo i rossi! E il rosso porta bene! Eh, insomma, dipende! Perché se ci dovesse essere tipo un toro! Un toro! Oh! Vai avanti te! Vai avanti te in quel caso! Vai tu per primo, guarda! Questa mappa è molto bella perché ci sono tutte le cose musicali! Cosa ne pensi? Ci sono i pianoforti! Molto bello! Sì, io purtroppo però non so suonare nulla! Eh, eh! Io ho la trombetta, forse! La trombetta! Sì, quella dello stadio! Allora, guarda! Vado subito al centro? Vai, bravissimo! Io copro il letto perché è molto freddo, come sempre! Ecco, una copertina! Beh, in realtà sta arrivando l'estate, quindi il freddo... Eh, ma ha un po' freddo, me l'ha detto lui! Non è che posso scegliere... Ah, il letto ha freddo? Eh, il letto ha freddo, sì! Eh sì, se poi gli viene la febbre non si sa mai, guarda! Dopo è colpa nostra! Certo, poi è colpa nostra! Quindi tu sei il papà del letto! Il papà del letto, bravo! Allora, vado a prendere i diamanti là io, intanto, eh! Quali diamanti? I diamanti nell'isola destra! Ma te l'ha chiesto il letto? Nell'isola che non c'è! Ok, va bene, va, va, va! Fammi a prendere un po' di diamanti! Allora, se non ne porti almeno... Almeno? Otto! Mi arrabbio! Ne vuoi otto? Otto! E otto sì, vabbè, otto... Otto biscotti! Ok, ne ho tre! Uh, guarda là! C'è già qualcuno! Tre! Scusa, io ti dico otto e tu ne prendi tre! Eh, un attimo, dammi un attimo, guarda! Sto assistendo a un assalto in diretta! Di chi? Dei viola, no, dei viola, dei rosa contro i... Contro i grisi! Si è rotto per la faccia! Contro i pirati! Ho quattro diamanti, Kendall! Ah, per la faccia, guarda, io sono pieno di smeraldi! Siamo i più ricchi del server! Fra poco te ne porto cinque! Quanti smeraldi c'hai? Ne ho sei, adesso sette! Trano molto... Guarda, che battaglia! Oh mio Dio, è incredibile! Eh, gliele stanno dando di santa ragione! Ma io non vedo nessuno! Ma siamo nella stessa lobby! Sì, sì, direi proprio... Eh, certo! Ho cinque diamanti! Hanno già distrutto il letto! Oh mio Dio, i poveri grey! Sono forti! Eh, sono molto forti! Un regalo per te, un regalo per te, un regalo per te! Un regalo per me! Per me, per me! Vediamo, anch'io! Guarda, ti faccio un regalo, Kendall! Guarda! Ok, vai, vai, prendi, prendi! Ti faccio... Affila testa uno! Uh, fantastico! Prendi questi! Un regalo! Armature in diamante nei primi... Quanto? Nel primo minuto di gioco? Wow, grazie, Kendall! Sei stato molto gentile! Ah, adesso non ti batte nessuno! Tieni, invece! Io ti do tutti questi per te! Tieni, tieni, tutti per te! Uh, fantastico! Grazie mille! Prego, prego! Ah, questo è il teamwork, ragazzi! Lavoro di squadra! Lavoro di squadra! Ma i diamanti quanti ne hai presi? I diamanti ne ho uno! Ne ho ancora uno! Ah, ah! Cinque ne ho presi! Adesso ne ho... Non ne volevi otto, però! Eh, lo so! Eh, vabbè! Più in là ne prenderemo otto! Allora, sta arrivando qualcuno da noi! Dove? Chi? Eh, c'è un gioco viola! Adesso li facciamo vedere noi! Li facciamo la festa! Li facciamo la festa! Vieni, viola! Hai una spada migliore? Eh, no, in pietra! Ah, buono, buono, buono! Ehi, 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 ehi! Spetti tu? Eh, sì, però è molto agguerrito questo! Stai attento! È andato di sotto! Ci sono, ci sono, tranquillo! È cascato di sotto! Ok, ok! Con una peracotta, Kendall! Buone le peracotte! Ah, peracotte! Eh, no, io vado un attimo nell'altra isola, ok? Così vado a prendere gli altri diamanti! Ok, ne ho preso un altro, a breve ne ho tre, eh! Ma aspetta! I blu non esistono! I blu non esistono più! Potremmo andare a prendere tutti i loro bottini! Uh, prendi il loro bottino, Kendall! Andiamo? Sì, mi serve l'ultimo diamante! Ne hai uno per me? Sì, è nell'ender chest! Oh, bravissimo! Dammela adesso che ci faccia una protezione 1! Ah, aspetta, tu l'ender chest mio non lo puoi aprirci, la password! Eh, no, direi di no! Eh, la password è 1 1 1 1 1 1 1! Eh, no, hai messo l'uno di troppo! Ah, ok! 4 1! Ok, tieni qua! Che cosa ci facciamo? Eh, cosa vuoi? Un protection! Vediamo! Protection! Ecco qua! Guarda, mamma mia! Ma siamo equipaggiati benissimo! Eh, io direi che possiamo andare all'attacco, tu cosa dici? Ma io andrei al centro per prendere un altro paio di smeraldi, così ti facciamo la spappa in diamante, che te ne pare? Ok, ok, io prendo un altro piccone Ho preso un piccone io in questo momento Ok Prendi anche lo scalpello, il martello E facciamo una casa Una casa, una casa No, non possiamo fare una casa Adesso siamo nelle bedwars Ah, è vero, è vero Un altro minigioco Guarda, c'ho quattro smeraldi Quindi già ho una spada in diamante per te Oh, sì, cara Però sai cosa? Sai cosa? Ne prendo otto Così ne abbiamo due di spada in diamante Allora, quattro diamanti Vediamo Oh, mio Dio, protezione 2, cara Oh, mio Dio Ok, siamo imbattibili Tu sei in diamante Allora, vieni qua Vieni un attimo, vieni Mi prendo un'altra mela Ecco, ho una missione per te Bella faccia Eccomi, dove sei? Dove sei? Sono qua, nell'altra isola di diamanti Ah, ah, ok, arrivo Ma non ti vedo Oh, mamma mia Ne ho quattro, bella faccia Sto arrivando da te Sto arrivando, Kendall Sono a sinistra Ah, ecco, ti vedo Ciao, ciao, Kendall Ciao, ciao, ciao Vuoi una spada in diamante? No, prenditela Mi vuoi fare un sacco di regali oggi? Vieni, dai, oggi è Natale Oh, mio Dio Oggi è Natale? No, non è Natale, però grazie Prego Facciamoci tutti e due una spada in diamante Oh, sì Ma questa cos'è? La partita perfetta? Ho sei smeraldi Sei smeraldi? Può essere veramente la nostra partita migliore Sì, ho sei smeraldi Allora, prendo questo Ne ho altri due per te Tieni, te li butto qua per te Perché, dammi, dammi Così poi mi faccio l'armatura pure io in diamante Bravo, bravo Eh, vabbè, ma allora siamo Non ci può fermare nessuno Abbiamo un sacco di cose, mamma mia Siamo indistruttibili Io sono fatto di latte Terminator Io sono fatto di latte Di latte? Sì Aspetta, fatti assaggiare allora Eh, latte cervo, non mi piace Guarda, sono tutti in diamante Devo ringraziarti però, veramente Eh sì, fammi un regalo Vorrei ringraziare tutti i miei amici Che mi hanno fatto in diamante Come ti ho fatto in diamante, scusa? Tu hai le piume, non sei fatto in diamante Mi hai regalato i diamanti Ah, ok Allora, guarda, sono rimasti un Uh, aspetta Io andrei la riscossa, Kendo Andiamo a uccidere i bianchi? Sì, andiamo a uccidere i bianchi Ok, andiamo, andiamo Hai qualcosa per rompere il loro letto? Sì, ho un piccone Un silverfish 4.000 Eh no, il silverfish è inutile No, no, il silverfish è il mio Eh no, è inutile È Zanni si chiama Ah, allora è inutile Vai, ti copro Ti copro io Vieni, vieni, vieni Oh, l'ho visto, l'ho visto Dai, velozzo, velozzo, Kendo Eh, dobbiamo andare a casa loro Hai blocchi? Eh, sì, ne ho 16 Io ne ho pochissimi Eh, sono pochi i 16 Corri, corri Non farti acchiapparlo Guarda, c'è il loro letto qua Dove? Sei pronto? Eh, questa non è la casa dei bianchi? Oh, stai attento che stanno tornando indietro Non fa niente Vieni, vieni, muoviti, muoviti Rompendo, rompendo Sto arrivando, sto arrivando Sto arrivando Ok, io mi vado a prendere l'armatura in diamante nel frattempo Oh, pronto Fantastico Lo sto rompendo L'ho rotto Sì, l'ho rotto Stanno arrivando Il fifone Vabbè, catti questo silverfish Oh, sì, grande Oh, vuoi silverfish? Vuoi silverfish? Vuoi, vuoi, vuoi Puscia, sto pushando Forza, vieni qui, vieni qui Ah, non ce l'aspettavo questo No Non ce l'aspettavo Dove vai? È bianco È qui, prendilo, Kendall Bravissimo Prendilo, prendilo Prendi questo Oh, di sotto Sì, batti, c'è questo Sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto, non ci credo Questa è la partita perfetta La partita perfetta, Kendall Tieni, ti do un po' di diamanti Ah, tieni, vuoi qualcosina Anche te Eh, sì Grazie Facciamo scambio Diamante per diamante Eh, tieni No, non ce l'ho il piccone Wow, 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 wow Kendall Dove sei? Sono qua Cioè, è stata la partita Perfetta questa Come dici? La miglior Dobbiamo arrestare per la faccia? No, cosa? Sì, perché è diventato troppo bravo La deadwurst No Eh, sì No, no, no Per la faccia, mi dispiace Sei in arresto No, 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 no Maialino No, maialino, maialino Attacca, attacca No, maialino Posso salire su questo maiale? No, mi sa di no Sei troppo pesante Come ti chiami, maialino? Eh, non voleva parlare con noi Maialino Maialino Tardo subito Comunque Non abbiamo mai fatto una deadwurst Così bella Allora Siamo riusciti a vincere in pochissimo tempo Nei primi minuti Eravamo già tutti quanti in diamante Sì, sì Abbiamo ucciso tutti E soprattutto Abbiamo vinto Sì Quindi ragazzi Voi lasciate un sacco di like Da me, da Kendall È tutto Ci vediamo domani Con un nuovo video Noi vi auguriamo Una buonissima giornata Buonissima giornata Ciao 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 Grazie a tutti.